allora ciao ragazzi stamattina mi è arrivata questa bau penna questa è la 1801 e automaticamente mi dovevano arrivare due va bene non fa niente altrimenti usiamo questa niente ma poi la faccio solo vedere così dopo di che farò una recessione come si programma eccola qua questo è il pacco che mi è arrivato stamattina l'ho pagata 36 euro con tutta spedizione 41 però mi è arrivata il panaviglia dopo un sacco di tempo eccolo qua morimmo all'interno che cosa ci esce però per quello che costa giudice la verità è ottima perché è pure pesantella eccola qua la confezione esce una radio questa qui poi la sua antena ce la possiamo pure mettere problemi ce ne stanno eccola qua e ora la posso pure accendere sta funzionando ok poi poi nella confezione è uscita vabbè è solito struttare l'auricolare per le orecchie batteria e la staffa per portarla vicino alla cinta e questo è tutto ok